... Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione. E quanto riguarda il vino, vabbè, alcuni di voi lo sanno, noi stiamo seguendo un corso di sommelier, proprio per cercare di darvi qualcosa di più, insomma, di riuscire poi anche a crescere noi, sapere che siamo una gente giovane, ancora una maniera poco esperta, quindi cerchiamo di studiare un pochettino per proporre i prodotti sempre... Quanto riguarda questo vino, vabbè, vorendo fare, diciamo, un pochettino seguire quello che è il corso, osserviamo il colore, che ovviamente è bianco, il bianco lo abbiamo capito, è un giallo maglierino, che denota comunque una freschezza del vino, ha un profumo floreale, di fiori bianchi, freschi, così dico, non sono messo le mie vietità di piacere, che impie un po' la bocca di... Io non sono con un sommelier, non voglio nemmeno, diciamo, ergermi a farmi, quindi, faccio la degustazione... L'esame, diciamo, il gustativo conferma l'esame di costruzione, la nostra nota di stabilità, che denota, che denota... dove c'è l'influenza del mare, insomma, le nostre linee qua, di bellete, di cisterna, di sua carla... Mi sento molto questa stabilità del vino... E per questo, ripeto, non sono un sommelier, e quindi... A noi questo vino, diciamo, la caratteristica più importante di questo vino è che ci emoziona, come lo sono io con il vino adesso... Ci emoziona a presentarlo già da prima volta al pubblico... Ci emoziona a fare questi eventi con voi, quindi spero che... Assaggi di questo vino emozioni voi, come emozioni noi, che quindi risulti a voi, come in realtà, non è gradito... Insomma, qua il nostro... Il nostro... Ci auguriamo e... E quindi vi auguro... Una buonasera... Buonasera... Sinistra a destra, come fosse di Pentolone, che non ho capito un cazzo... Ecco... È l'informazione che volevo... Bene...